Verranno avviati a stretto giro i lavori che consentiranno la riapertura in sicurezza dei padiglioni lesionati dal sisma all'interno del cimitero di Cartecchio di Teramo, che da tempo non sono accessibili o non lo sono solo in parte. Questo grazie agli oltre 800 mila euro messi a disposizione dalla protezione civile. La Giunta Comunale ha già approvato il progetto per la messa in sicurezza e il ripristino dell'agibilità, passaggio essenziale per dare avvio alla procedura di gare e appaltare i lavori. Diciamo che l'anno scorso, in concomitanza con le festività dei morti, abbiamo annunciato l'arrivo del finanziamento da parte della protezione civile. Adesso stiamo lavorando per fare la gara e per ovviamente incaricare una ditta di iniziare questi lavori di messa in sicurezza. Lavori necessari non solo per il cimitero ma perché ci libereranno veramente anche tanti posti all'interno del cimitero monumentale ci consentirà di abbattere un po' le richieste per i loculi e quant'altro. Sicuramente si darà vita al cimitero monumentale. I tempi sono imminenti. L'altro giorno in Giunta abbiamo approvato la delibera del progetto definitivo ed esecutivo. Quindi stiamo lavorando proprio per mettere in campo l'ultima fase che è quella della gara per individuare una ditta che dovrà effettuare i lavori. Sono all'incirca 850 mila euro. L'importo è importante ma il numero dei padiglioni che sono inagibili a seguito del sisma sono tanti il motivo per cui la somma è abbastanza elevata. Diciamo che la cosa importante è che da qui a qualche tempo potremo tornare a vivere il cimitero in ogni sua parte senza nessuna limitazione affinché tutti i cittadini che in questi anni sono stati costretti a non poter andare a far visita ai propri cari potranno tornarci tranquillamente con un cimitero che è stato veramente messo a norma e messo in sicurezza. Una volta avviati i lavori, le tempistiche quali potrebbero essere? Visto il considerato novembre è troppo vicino come data? Assolutamente novembre non ce la faremo mai in assoluto. Voglio augurarmi che per novembre ci sia... non voglio augurarmi. Sto facendo di tutto perché a novembre possono già essere in corso i lavori. Per cui voglio dire ma sicuramente in questo anno non riusciremo a restituire il cimitero messo in sicurezza ai nostri concittadini ma nei mesi successivi sicuramente accadrà.